Ciao a tutti, oggi prepareremo la millefoglie di zucchine. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono zucchine tagliate a fettine, olio evo, pan grattato aromatizzato, yogurt greco, uova, parmigiano grattugiato, farina, olio, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo yogurt greco e le uova. Ed azionare il baby per un minuto a velocità 4. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la farina, il parmigiano grattugiato, l'olio, il sale e il pepe. Ed azionare il baby per un minuto a velocità 4. La nostra pastella è pronta. Trasferire in una ciotola. Abbiamo unto con un po' d'olio una teglia, mettere un po' di pan grattato, le zucchine, un po' di sale, un po' di pan grattato, un paio di cucchiai di pastella e livellare e il parmigiano grattugiato. e proseguire così fino a quando gli ingredienti non saranno terminati. Terminare con il pan grattato, il parmigiano, ed irrorare con un filo d'olio. Cuocere in forno preriscaldato a 200 gradi per 35-40 minuti. Mille foglie di zucchine! Grazie e alla prossima ricetta! Grazie. Grazie a tutti! Grazie a tutti